creare una pressa per conservare fiori e foglie l'occorrente per questo progetto due fogli di compensato 30 centimetri per 30 quattro barre filettate quattro dadi a farfalla quattro dadi a esagono e otto rondelle indispensabile la carta assorbente da posizionare sotto e sopra le foglie inserire poi la carta tra un compensato e l'altro e avvitare i dadi in modo energico lasciate in sede per almeno una settimana per fiori e piante più carnosi aumentare il tempo di pressione al prossimo progetto di rosso tibet